Per raccolta di contenuti a bassa interattività intendiamo l'acquisizione di informazioni che siano concetti, metodi, strategie, processi eccetera attraverso la fruizione individuale di una fonte come ad esempio l'ascolto di una lezione o di un podcast, la lettura di testi e documenti, la visione di materiali video eccetera. Ma cosa succede in aula durante una lezione frontale? Il docente racconta, spiega, compara informazioni, dati, metodi eccetera mentre gli studenti ascoltano e prendono appunti. Ma si tratta di apprendimento? Non proprio. Gli studenti sono impegnati ad ascoltare e raccogliere informazioni che verranno poi trasformate, rielaborate e memorizzate in un secondo momento. Si tratta a tutti gli effetti di un momento di raccolta di contenuti. Oltre alla lezione possono poi esserci anche altri momenti durante i quali lo studente raccoglie contenuti come ad esempio l'ascolto di una lezione, la visione di un video selezionato o anche progettato con cura dal docente, l'ascolto di un podcast o la spiegazione dello svolgimento di un esercizio o ancora la lettura di un articolo eccetera. In aggiunta ai materiali proposti o suggeriti dal docente lo studente in molti casi si fa anche aiutare da altri materiali e video che cerca autonomamente online oppure dagli appunti di un compagno di corso o da altre innumerevoli fonti. In tutti questi casi lo studente recupera, raccoglie, immagazzina informazioni più o meno complesse fondamentali per il processo di apprendimento. Negli ultimi anni università, imprese e istituzioni hanno creato e messo a disposizione di tutti molti materiali di qualità così come hanno fatto i vari portali di MOOC o OpenCourseWare che hanno un'offerta sempre più ricca e variegata. Il docente può fare riferimento a questo ventaglio sempre più ampio di risorse che possono essere vocali, testuali e visuali integrandole nel proprio corso. In questo modo il docente può delegare ad esse, ad esempio a un MOOC, parte del trasferimento di concetti e informazioni liberando il tempo in aula che può essere utile per altre attività come supportare la memorizzazione o anche applicare i contenuti teorici o ancora elaborare in modo accompagnato contenuti complessi. Attenzione però perché la molteplicità di fonti e formati è utile ed è una ricchezza perché fornisce stimoli e punti di vista diversi ma può anche creare confusione. La prima grande attenzione che il docente deve avere quando propone agli studenti fonti alternative o complementari è quella di comunicare con grande chiarezza quali fonti sono obbligatorie e oggetto di valutazione e fornire una mappa dei percorsi consigliati in cui tutte le risorse sono descritte in modo critico dal docente e collegate al percorso didattico.